Ciao dalla vostra amica, video tutorial Garfield Speriamo che esca bene Allora, prima di tutto la mia solita tip col bianco di Enai Store e opacizzata con questo della S per usare l'acrilico, non lo sapete poi, il mio bel bassoiettino qua di Enai Store con l'acqua il mio ormai fantastico pennello di Enai Store che per questi ormai è diventato è diventata la mia mano ok, e poi questi acrilici che non sono quelli di Enai Store perché erano altri colori, questo è se avete visto il mio video di acquisto, avevo preso questo contenitore qua, ho messo dentro quei piccoli tubettini che avevo preso via internet, ho messo i colori qua dentro che sono un pochettino più comodi poi, appunto, già preparati nel mio bassoietto ho ricreato, cioè mio marito ha ricreato perché lui, l'arancio più chiaro l'arancio più scuro, perché Garfield sapete che ha le palpe, e dopo vedrete nel disegno penso di aver detto tutto possiamo iniziare iniziamo il mio solito con il nero che vado a fare il contorno iniziamo a disegnare il nostro gattone arancio gatto gattone gatto gattone, Garfield mangia l'aranie è vero grazie a tutti 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 ecco, allora adesso vediamo qualche rifinitura e il mio Garfield a posto ok a me piace dai, sembra uscito carino non è facile da disegnare però mi piace questo è il mio Garfield il primo di Nika al prossimo fatemi sapere se vi piace ciao